È stato per molti anni alla corte della Jalapas Band nei vari Maidire. Il successo arriva con Maidire Grande Fratello 2 nel quale, accanto a Paola Cortellesi e al mago Forest, anima il programma. I suoi personaggi più famosi sono il cantante sdolcinato Olmo, il modello Fabius dall'alito mefitico, Il presentatore perfetto Cologno, il pagliaccio Baraldi, che tenta sempre di strappare una risata nonostante le sue condizioni di salute siano a dir poco. Precarie, Mediomen, il supereroe della mediocrità ispirato al concorrente di Grande Fratello Francesco Gaiardelli. Ingegnere cane, ipotetico ideatore del ponte sullo stretto di Messina. Bume Bumpi Cozza, finto inviato delle Iene e striscia la notizia. Petunio, ballerino sudamericano costretto a ballare sempre fino allo sfinimento quando c'è musica. E numerose imitazioni di personaggi televisivi tra cui Patrick Ray Pugliese. Non si può naturalmente dimenticare l'anacronistico nobilotto Luigi Guastardo della Radica. Acuta e spassosa satira di un certo modo di porsi secondo valori d'etichetta ormai desueti. E il colonnello P, un anziano re educe della seconda guerra mondiale. Incapace scrittore di romanzi erotici per teenager dalla mentalità ristretta. Soprattutto verso i francesi. Convinto che siano tutti degli omosessuali. Lasciati i programmi comici, si dedica alla sitcom, nel 2005 è il protagonista di Love Bugs. Con Michelle Hunziker, serie comica che racconta i problemi di coppia e riscuote un buon successo. L'anno successivo ad affiancarlo nella trasmissione c'è Elisabetta Canalis. È stato su Rai 1 conduttore di Apocalypse Show. Programma di Gianfranco Funari. Assieme a Esther Ortega, ha sempre vantato partecipazioni al cinema anche in ruoli da protagonista assoluto. Come in ogni volta che te ne vai. Del 2004, a Natale 2006, fa coppia con Claudio Bisio in Natale a New York. Nello stesso periodo, è al cinema anche in commedia sexy. Dove però fa solo un breve cameo assieme a Maurizio Micheli all'inizio del film. Recita nel cast dei successivi. Natale in crociera, 2007. È Natale a Rio, 2008. Dove riaffianca Michelle Hunziker, ha condotto il programma di Italia 1 Le Iene con Ilari Blasi fino all'edizione di febbraio 2009. Anno in cui entra nel cast del film di Pupi Avati. Gli amici del bar Margherita. L'anno successivo è il protagonista del film di Gabriele Salvatores. Happy Family. Ed i maschi contro femmine di Fausto Brizzi. Nel 2011 è stato protagonista di La peggior settimana della mia vita. Di cui è anche co-sceneggiatore e co-creatore del soggetto. Diretto da Alessandro Genovesi e con Cristiana Capotondi. Alessandro Siani e Antonio Catania. Durante l'estate dello stesso anno. Viene diretto nuovamente da Fausto Brizzi in Come è bello far l'amore 3D. Con Claudia Gerini, Filippo Timi, Giorgia Wert e Alessandro Sperduti. In uscita nelle sale cinematografiche il 10 febbraio 2012. Dal 2010 partecipa amichevolmente in qualità di testimonial di Fondazione ISAL. Presieduta dal prof. William Raffaelli. A fine 2012 è uscito nei cinema Il peggior Natale della mia vita. Continuazione del precedente La peggior settimana della mia vita. Nel 2013 interpreta Alberto Nardi. Un imprenditore giovane e dinamico che cerca di sbarazzarsi una volta per tutte della moglie. interpretata da Luciana Litizzetto, nel film Aspirante vedovo, nel febbraio 2014 è protagonista della pellicola Una donna per amica. Accanto alla Etizia Casta, dove recita nel ruolo di Francesco. Un avvocato impacciato che si innamora della sua migliore amica proprio quando questa decide di sposarsi. Da maggio 2015 a novembre 2015 è stato impegnato nelle riprese di un film con Angelo Durodal. Titolo Tiramisu. Suo debutto come regista. Uscito nelle sale il 25 febbraio 2016. Ha collaborato con lui alla regia Marco Limberti. Già conosciuto sul set di Love Bugs. Tra settembre e ottobre 2016 è stato impegnato nelle riprese di un film con Elio Germano.